Ciao PEN, oggi è a progettiamo quasi l'estate, le temperature di contrarne il vento Ci troviamo alla stazione di Ustui per fare il nuovo promo della nostra trasmissione Ci ascoltate ogni giorno tra le 17 e le 19 su RCB Con Fantastico il varietà radiofonico E via da domani, mi chiede al mio socio che pregherai di incontrare dalla nostra regia Una regia mobile Siamo all'avanguardia, utilizziamo i nuovi mezzi per fare i promo Siamo in Fantastico, non perdete il nostro treno, non perdete Grazie